Si chiama Prometheus ed è una start-up innovativa che realizza tessuti umani in 3D per la ricerca farmacologica, il vincitore della sesta edizione del premio Nidi, nuova idea d'impresa. Tra le 90 candidature arrivate ad Innovami, 8 si sono sfidate a Imola per aggiudicarsi i premi in palio per un monte premi totale di 35.000 euro. Siamo cresciuti di 14 start-up rispetto all'anno scorso, 14 progetti, appunto sono 90, sarebbero 91 ma uno è arrivato fuori tempo massimo e uno è arrivato dalla Svizzera. Si conferma inoltre la provenienza da più regioni italiane, quindi non sono concentrate solamente in 2-3 zone italiane ma da tutte le regioni. Ed è il progetto Prometheus che ha vinto questa sesta edizione del premio Nidi, nuova idea d'impresa. Ci vuoi raccontare brevemente di cosa parla il vostro progetto? Allora abbiamo sviluppato un sistema di biostampa 3D in grado di realizzare tessuti umani e animali per i test farmacologici del trapianto. Ad oggi abbiamo sviluppato un medical device che in combinazione a delle strutture che noi stampiamo nel nostro impianto produttivo tira fuori una pelle, una seconda pelle per la cura di ferite cutanee e di difficile rimarginazione. Oggi nella veterinaria, domani nel mercato della medicina umana.